La Corte d'Assise di Teramo ha condannato l'ex imprenditore William Adamo alla pena dell'ergastolo per l'omicidio della moglie Maria Rosa Perrone, uccisa a coltellate il 16 ottobre 2011 nella sua auto. La sentenza è stata messa oggi a carico dell'uomo, sessantenne originario di Alba Adriatica. Per Adamo il pubblico ministero Bruno Auriemma aveva chiesto 23 anni di reclusione, derubricando il reato da omicidio a tentato omicidio. Una mossa alla luce del fatto che il consulente della procura aveva sostenuto che la Perrone avrebbe potuto salvarsi se il medico del pronto soccorso dell'ospedale di Santomero, che aveva prestato le prime cure alla donna, fosse intervenuto in tempo. Ma il giudice per l'udienza preliminare Giovanni De Renzis nel corso del dibattimento aveva chiesto la modifica del capo di imputazione per Adamo in omicidio volontario aggravato. L'aggressione risalente al 2011 era avvenuta in strada nell'auto della donna. Le urla e il sangue sui finestrini hanno attirato l'attenzione di alcuni passanti che hanno chiamato i carabinieri che riuscirono a bloccare e disarmare l'uomo. La donna era arrivata viva in ospedale ricoverata in prognosi riservata nell'ospedale di Santomero, ma dopo qualche ora ed un disperato intervento chirurgico ha perso la vita per un'emorragia interna.